Doveva essere il giorno della svolta, invece sull'avvertenza ex lavoratori Fiat di Termini Merese si gioca l'ennesima battuta d'arresto. Un incontro interlocutorio, quello di oggi a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, era il giorno nel quale l'amministratore di DR Motor, Massimo Dirisio, avrebbe dovuto comunicare al ministro Passere il nome del partner che dovrebbe aiutarlo a prendere in mano lo stabilimento di termini. Dirisio ha spiegato che la sua azienda ha bisogno di qualche altro giorno, almeno 15, per trovare una soluzione per sbloccare il suo insediamento nello stabilimento ex Fiat di Termini Merese. Tuttavia ha detto che è in corso di trattative con un partner, anche se non ha specificato se sia un partner industriale o finanziario. Immediate le reazioni, scettici i sindacati che parlano di tempo ormai scaduto. Il presidente della regione, Raffaele Lombardo, presente all'incontro assieme all'assessore alle attività produttive Marco Venturi, invita il governo nazionale a guardarsi attorno per vedere se ci sono altri imprenditori disposti ad investire nel settore dell'auto a Termini Merese. Ci sono altre proposte industriali per Termini Merese che possono partire, in tal senso ci siamo impegnati, anche se i posti di lavoro creati sarebbero qualche decina, continuano i due. Dirisio, che peraltro ha ricevuto l'invito a dedurre entro 15 giorni, avrà tempo entro il 10, perché sostiene di aver trovato un partner finanziario imprenditoriale che gli consente di tamponare i serni e quindi di proiettarsi su Termini Merese. Nel frattempo il governo, i governi, anche a fronte dell'impegno finanziario straordinario che stanno assumendo, è chiaro che si guarderanno attorno a 360 gradi per vedere se ci sono altri imprenditori disposti ad investire nel settore ovviamente della produzione delle auto, perché chiaramente l'advisor lo ha già fatto nel passato e non c'è dubbio che riprenderà i fili di un discorso che potrà riguardare altri. Ci auguriamo che nel frattempo il partner venga trovato da Dirisio e venga data una parola certa. Intanto il governo nel confermare gli impegni dovrà dare una risposta positiva sugli esodati e sulla prosecuzione della cassa integrazione.